con oggi cari amici si apre una nuova rassegna di film che vi accompagnerà ogni lunedì sera è dedicata alla grande Sofia Loren per cominciare vi proponiamo un film di Mario Municelli la mortadella con Luigi Proietti dall'applicazione rigorosa di una legge nasce lo spunto per una critica a certi aspetti alienanti della nostra società a tutti buon divertimento tra poco cari amici entreremo con voi nel Tribune il giornale dove lavora il simpatico giornalista Lou Grant al termine speciale canale 5 è ancora un film per la nostra serata la polizia incrimina la legge assolve gli interpreti sono Franco Nero, Ferdinando Rey ed Elia Boccardo e vi auguro buon divertimento